Se stai cercando una macchina per cominciare a cucire questo potrebbe essere proprio il modello che fa per te, si tratta della Neki HP 04, è una macchina elettronica con 40 punti ideali per il cucito sartoriale o il cucito creativo. Insieme alla macchina ti arriveranno a casa anche tanti altri accessori utili per le tue creazioni come per esempio piedini, spolette, aghi di ricambio, la copertina antipolvere e naturalmente il reostato. Installare la macchina è davvero semplice perché basta collegare il cavo di alimentazione e il reostato. Per cominciare subito a cucire ti basterà utilizzare del filato in poliestere e avvolgere la spolina, basta seguire questi semplici passaggi per avere la spolina piena e poi andare a inserire la spolina nell'apposito alloggio. L'infilatura è davvero facilissima anche grazie al dispositivo infilago automatico che ti permette di infilare l'ago in modo veramente molto semplice e veloce. Per i tuoi lavori puoi scegliere uno dei 40 punti mostrati direttamente sulla scocca in modo così da averli sempre sotto mano e avere sempre il riferimento del numero di punto da selezionare. Per impostare il numero di punto è facilissimo, basta scegliere il punto, guardare il numero e riportare il numero sul display grazie alle frecce. Oltre ai punti utili per il cucito come il zigzag, il punto dritto, il punto per l'orlo invisibile, hai a disposizione anche tantissimi punti decorativi davvero molto carini per realizzare tante creazioni uniche. Con questa macchina elettronica i punti hanno già una impostazione di larghezza e lunghezza ma se vuoi puoi sempre andare a modificare la larghezza del punto o la lunghezza del punto. Questo ti permetterà di ottenere i punti come tu li vuoi in base al lavoro che devi realizzare. La scelta dei punti è davvero vastissima, puoi scegliere tra punti pieni, punti decorativi, cornicette, greche in modo così da poter andare a personalizzare tantissime creazioni con il tuo gusto creativo. Naturalmente se vuoi saldare una cucitura con un rinforzo hai la leva di ritorno ma se vuoi chiudere un punto decorativo con un semplice punto annodato allora puoi anche premere il pulsante per ottenere la saldatura sul posto. Se poi il free motion è una tua passione allora utilizza l'abbassamento del trasporto automatico. Insomma l'annecchia HP04 è proprio una macchina adatta a tutti, anche ai principianti. Come avete visto è facilissima da utilizzare, è una macchina elettronica, un prezzo davvero per tutti e ha un sacco di punti sia per la sartoria che per il cucito creativo. Ci vediamo presto per altri consigli, ciao!